Nel cuore di Fano in via Rinalducci c'è un vicolo cieco tra due palazzine che finisce in un muro perimetrale di un'altra abitazione che si affaccia in via Mura Auguste. Su questo muro ancora di mattoni grezzi che richiama il tempo di una Fano antica che appare e scompare dai vicoli e dagli scorci e che fa capolino tra edifici e mura ristrutturate come a dire ehi la vecchia Fano è ancora qua. Ebbene su questo pezzo di vecchia Fano a tre metri d'altezza c'è una piccola nicchia dove fino a poco tempo fa c'era una statuetta linea della Madonna di Loreto ma ora la nicchia è vuota. Chi passa da questi stretti vicoli volgeva lo sguardo quasi distinto passando da qui a dare seppur fugace uno sguardo alla Madonnina che dall'alto osservava il trascorrere della vita della sua posizione rialzata quasi a vegliare su chi vi passava accanto. Una presenza silenziosa ma grande come lo è grande anche la sua assenza ora. Assenza notata dal dottor Curina che giornalmente come molti transitava e transita nella strada e che ci ha segnalato l'assenza della statuetta. Ora c'è da chiedersi quali sono le cause della sua sparizione. È stata ventilata alla proprietà diverso tempo fa di uno degli immobili confinanti col vicoletto la volontà da parte di qualcuno di restaurarla e riportarla al suo originario aspetto. È forse questa la ragione della sua assenza o forse ancora peggio qualcuno l'ha rubata o trafugata? E per farne cosa? E quali mani si sono macchiate di questo orribile gesto? Il suo valore intrinseco anche se la sua origine potrebbe essere anche settecentesca non dovrebbe essere elevato. Quindi perché rubarla eventualmente? Speriamo e come noi in molti che l'ipotesi del restauro sia la ragione della sua assenza e se così fosse ci piacerebbe conoscere il mecenate che si è reso protagonista di questo gesto.